Giovedì 8 giugno 2023 Meditazione sul Vangelo di Marco 12 28 B34 Il comandamento più importante Nel testo evangelico odierno, la polemica lascia il posto al dialogo. La consegna dell'unico comandamento dell'amore di Dio e del prossimo, nel Vangelo di Marco, avviene in un contesto di disponibilità all'incontro e al dialogo. Nella dinamica che il comandamento mette in moto, quella del lasciare spazio all'altro nell'ascolto aperto e accogliente. Lo scriba che avvicina Gesù desidera sapere quale, fra i 613 precetti che i maestri delle scuole rabbiniche avevano estrapolato dalla legge, egli dovesse considerare il primo. Gesù, che nel Vangelo di Matteo di se stesso dice di non essere venuto per abolire la legge e i profeti, ma per dar loro compimento, Matteo 5 17. Rivela che tutte trovano la loro radicalità, pienezza e possibilità nel comandamento dell'amore. Gesù intreccia due testi dell'Antico Testamento, Deuteronomio 6 4 5 e Levitico 19 18, dicendo che si tratta in realtà di un unico comandamento. Esso consiste in un atteggiamento che coinvolge tutta la persona e l'intera esistenza. Se guardiamo da vicino i termini usati, comprendiamo cosa significhi questo coinvolgimento. Shema, ascolta, è la prima parola del celebre passo del Libro del Deuteronomio, che ciascun israelita al tempo di Gesù pregava ogni giorno, al mattino e alla sera. Dunque, tutta la giornata, dal suo principio al suo termine, e ogni singola azione e pensiero sono posti sotto la Signoria dell'unico Dio, da ascoltare e amare, con tutto il cuore. Il cuore per la scrittura è il centro della persona, delle sue energie, razionali ed emozionali. Il cuore, il tuo centro vitale, è fatto per essere abitato dall'unico Signore e da Lui unificato dalle molteplici dispersioni e frammentazioni del vivere. Perché la tua vita si orienti a Lui solo, con tutta la tua anima, cioè con tutta la persona vivificata dal soffio vitale di Dio stesso, dal suo spirito. Dio per il suo spirito ti fa vivere, soffiandolo in te, Genesi 2 7, e ti rende capace di vivere per Lui. Con tutta la tua mente, cioè con la tua capacità intellettiva e conoscitiva. Dio desidera farsi conoscere da te e ti domanda di mettere in moto anche le tue facoltà intellettuali per aprirti alla rivelazione della sua parola. Con tutta la tua forza, anche le tue energie fisiche e il tuo corpo sono coinvolti nella dinamica dell'amore, così da continuare nel tempo e nella storia l'opera stessa di Dio. La vita intera del credente è afferrata da Dio, le sue scelte, decisioni e azioni scaturiranno tutte dalla relazione con il suo Dio, unico Signore. L'amore al prossimo ne sgorga come da una sorgente e continuamente alimentata dall'amore stesso che Dio riversa in chi si consegna a Lui. Chi ascolta e accoglie questo Evangelo non è lontano dal Regno di Dio. Grazie per l'ascolto. Se il video ti è piaciuto, metti un like e iscriviti al canale.